Ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop nella sezione supporto a un creatore Inserire il codice creatore fortu così come vedete a schermo poi accettare e da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ciao a tutti ragazzi qui è ForteWare che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite Lo so ragazzi stavate aspettando Minecraft solo che è un gioco che mi chiede molto più tempo di registrazione rispetto a Fortnite Quindi tranquilli il secondo episodio della Minecraft vanilla lo sto ancora registrando Intanto per oggi facciamo una sfida su Fortnite in cui dovrei utilizzare solo uno slot alla volta Io lo devo ancora registrare non so come andrà a finire sta cosa Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina se non l'avete ancora fatto qui in basso Perché altrimenti vi perderete tutti i prossimi video di Fortnite, di Minecraft che arriveranno quindi mi raccomando iscrivetevi Ma prima di iniziare ragazzi volevo ricordarvi che questo video è in collaborazione con Eneba Eneba è un sito che vende card di Xbox, PSN e tanti giochi, veramente tanti ragazzi, a prezzi scontati Se siete interessati ad una categoria nello specifico basta che andate nella barra di ricerca, digitate il nome del gioco Troverete per esempio nel caso di Fortnite una marea di pack, DLC e skin Una volta che avete scelto il pack andate sul prodotto, decidete di comprarlo E quando sceglierete il metodo di pagamento potrete inserire un piccolo gocci e sconto For to the gamer, così come vedete a schermo, applicatelo e avrete uno sconto del 3% meglio di niente Tenendo conto che i giochi già sono scontati Inoltre ragazzi il sito è sicuro perché vi permette per esempio utilizzare metodi di pagamento come Paypal Però ragazzi io lo uso già da tempo, da molto prima che effettivamente potessi collaborare con i ragazzi di Eneba Quindi state tranquilli che è un sito affidabile Ma non perdiamoci ancora in chiacchiere e andiamo Ok boys, allora posso utilizzare un solo slot alla volta come avete letto dal titolo Quindi dovrò portarmi una sola arma alla volta e allo stesso tempo dovrò utilizzare le poche cure che troverò Una alla volta, vabbè avete capito, insomma non sarà una sfida divertente Specialmente perché io credo che andrò avanti di fucile a pompa appena ne troverò uno Calmi, per esempio qua già farei uno switch di arma Giocheremo safe, giocheremo in maniera intelligente Vediamo come va Vabbè, intelligente, insomma ci proviamo, intelligente Ok, si avvicina un tipo raga, si avvicina un tipo Ci sta per forza, devo capire dove Ah lì, ok Mi sta mirando con... ok Va bene, scarso, scarso a posto Bom, è nulla che mi possa interessare Va bene, ok Sto cercando nelle ceste magari qualche arma più interessante Eh esatto, 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 buono Ah, safe, ah Eh sì, vabbè, ciao Questo c'è proprio il fucile a pompa che vorrei io Proprio quello Ragazzi ogni tanto mi si fa lo schermo nero, non capisco perché Attualmente non vedevo Ok Mi è andato bene Vediamo questo se mi può dare qualcosa di utile Senti fra, un attimo, la situazione è complicata Ma che cosa vuoi? Perché, 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 perché Perché non erano amichevoli questi tizi? Cioè mi hai eliminato, seri Vabbè, prima è per gli scemi Più che altro ho trovato finalmente l'arma che volevo fin dall'inizio Ovvero il fucile a pompa, meglio così Questa zona inquietante Perché si sente proprio il rumore di predatori in zona Cioè calmi Ah Vabbè Facciamo che faccio così per ora Eh no ragazzi, mi porto lo scar Mi spiace Ok, prendiamo quest'auto e andiamocene Eh quasi quasi Una capatina qui la farei Dai che sta finendo pure la benza, dai Entro di prepotenza Qualche cura la devono aver pur lasciata, no? Ragazzi non so perché Ma c'è questo bug Che ogni tanto lo schermo mi si fa nero Eh per esempio ora si è fatto nero Ora voi lo continuerete a vedere Ma Cioè questa cosa è grave Se mi succede durante un fight È un casino Ok Brutta cosa 35 35 Vabbè distrutto Dai 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 Scarso scarso Mi serve la sua roba? Eh sì mi servirebbe Vabbè però non posso prenderla praticamente Eh no ragazzi Come la prendo? Scusatemi Non posso Devo andare in safe e basta Cavolo Che brutta situazione Ora la safe mi zaffa anche due Lo sapete che non so se ce la faccio? Sì vabbè Mi guardano storto e sto a terra Dai dai Sta un tizio là Vattene No viene qui Viene qui lo so Lo so che viene qui Io mi butto Ah no no si è lanciato Si è lanciato Ok 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 Resta giù Io mi devo curare Aspetta un attimo Uh cecchinata No 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 non volevo andare qui Non volevo fare questo Non è successo davvero Tutto così sbagliato Non sapevo che sta sfida Non sa da fare Allora questa zona prima Ci ha portato fortuna Speriamo che lo faccia anche ora Aspetta un attimo Se possiamo curarci Con qualche cosa Che troviamo in acqua Cioè Ma stiamo scherzando Ma che ci piglia Quel coso in mezzo alla mappa Oh fra Un calmante Fra Fra la tachicardia Oh è pericolosa Oh oh Sono due tizi là Sono due bot Sono due scarsi Non sono bot Intanto il mio schermo Intanto il mio schermo ragazzi Si fa nero e bianco Di continuo Mi ha doppiato Ah la struttura è sua Fantastico Appena si eliminano Mi aggiungo io Bella Ok una cosa al volo Sta troppa gente in giro Questo molto volentieri Che è sta cosa? Ok Agnomo Ma cosa sto sparando È davvero domani Ok Questa zona però è pericolosa Eh abbiamo già incontrato Troppa gente Io qua devo andare Molto sul safe ragazzi Doppia pistola Sarebbe carino da provare Dammi una taglia Così magari Esatto Almeno so dove sta un nemico Oh io vado in safe Che questa zona è troppo appia Per il mio Fucili a poppa ricarica Mi hanno eliminato la taglia Grazie bro Ma potevo offrire un caffè Per quanto Ok Ha fatto male Perfetto Ha fatto più male a me Oh ma seri Questo L'hanno rimedi Ah Oddio Non sapevo che ci fosse sta cosa Tra l'altro non lo potrei utilizzare Perché dovrei utilizzare un solo slot Però non fa niente Approssimiamo stavolta Carino Sai che da questa safe Ci esco bello picchiato Bende mi servirebbero pure Ma non ci posso fare nulla qua Favo una cosa al volo Mi sa che sono morto Sapete No ma sicuro È l'unico modo in cui posso recuperare un po' di vita Provo così ragazzi Provo così Ho ancora due bende Posso farcela Dai 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 Uuuuh No 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 Non mi ha visto Tutti zitti Mi serve quel medikit A tutti i costi Mia raga Andata 62 Godo Ok Non mi posso ragazzi Uh questo mi serve Grazie Ciao Via 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 Ragazzi il bug dello schermo nero si fa sempre più pressante Ormai accade circa una volta ogni 5 secondi Io non posso avere schermo nero ogni 5 secondi Ok Ho quel tizio qui 4 12 Dai Non posso fai dare così Ah sono là Sono là Tutti i casi Il problema principale è quello di fronte Che gli ha pushato addosso letteralmente Bello Io c'è bra Divertiamoci 58 che fa male Carino questo Dai Dai Il problema è che questo tizio qualche bouncer ce l'assicuro Io non ho modo di farlo cadere Devo tenerlo d'occhio E infatti è sceso Provo Eh vabbè 22 ragazzi ancora lo scudo Eh vabbè affatto ha capito Ha capito il giochino È inutile sono morto Vabbè Eh gg Eh raga non potevo fare nulla Non potevo fare nulla Me la sono giocata bene questa Vabbè ragazzi ora basta Cuffie potenti Facciamo un attimo vedere chi comanda Ok uscirà un tizio da qui Ah bello sto fucile a pompa Brother Passamelo un attimo Molto gentile grazie Io queste le voglio provare Scusami Me le dai gentilmente Tanto sto pieno di lingotte Grazie Queste le levo E tengo queste Ok Fatemi vedere come funzionano Io spero che facciano danno Per il mio bene Ok sta lì il tizio Ah ma queste No 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 Ragazzi questo c'è pure lo scar No 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 Calmi 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 Ma questo ha finito i materiali però Dai Il problema è che come lui ha pochi materiali Io c'ho Ah questo mi massacra Dai Mamma mia Sto a morte Forte da che me Cure Cure poi Poi decido che prendermi Perché questo ne ha avuto il fucile a pompa buono C'ho tizi di fronte nella struttura Che sarei felice di evitare Perché sali Perché sali Eh si vabbè Ciao ninja è arrivato Tu sorella Fra Tu sorella davvero Non so Non ha senso questa cosa Dicevo anche il P90 Non sarebbe male Qui abbiamo una scelta di armi veramente folle Se potessi portarle tutte il game sarebbe vinto Però no mi Tengo ancora a questo raga È il migliore che possa portare secondo me No 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 dai Guarda bro veramente Era l'ultima Era l'ultima delle mie intenzioni Fightare te Guarda davvero No jokes Ok sopra la mia testa Però se hai dei dubbi che capisca dove sono A breve dovrò andare guys Ora Ci passo di fianco Mi hanno visto Uh Mamma mia Ok Mi devo curare Dove sono le sue cure Le cure ce l'ho So però di noi in una situazione di schifo come prima Però lei ground stavolta Dai Basta GG Ragazzi Challenge One slot Fatta Non è stato semplice Non è stato per nulla semplice Ma ce l'abbiamo fatta GG Mamma mia ragazzi Quando abbiamo iniziato a fare sul serio È stato veramente figo E alla fine Siamo riusciti a fare questa challenge folle Mi raccomando Lasciate un like Se la sfida vi è piaciuta Vi ricordo di iscrivervi al canale E attivare la campanellina Per non perdere i prossimi video Di Fortnite e Minecraft E noi boys Ci becchiamo alla prossima Ciao a passia Ciao a tutti Ciao a tutti